Siamo in pieno periodo di resistenza, siamo a giugno del 1944, le bande partigiane in cannavese sono ben organizzate, sono una spina nel fianco per il regime fascista e viene inviata in cannavese la divisione Decima Massa, una divisione d'elite della Repubblica Sociale italiana. L'8 luglio del 1944 un gruppo di militari della Decima diserta, alla testa di loro c'è un tenente medico, un certo netto, diserta dagli scappano e raggiungono la stazione di Uzzegna. Di questo fatto sono venuto a saperlo sia i partigiani sia quelli della Decima che gli erano scappati. È stato il fatto che avviene poi uno scontro a fuoco, hanno meglio i partigiani, 11 fascisti morti, 3 partigiani ed un civile. Finito lo scontro a fuoco, quelli che si sono arresi vengono caricati sui pullman e sui camion che avevano e vengono portati a Campiglia e Valsoana. Il giorno dopo, alla Decima, occupa Uzzegna, minaccia di bruciarla, prende 40 persone ostaggio uomini e due donne e li porta alla casarma Freguglia di Ivrea. E qui inizia la trattativa, cioè ostaggi in cambio di prigionieri, altrimenti incendiamo il paese, eccetera. Trattativa che viene svolta dai due preti, il prete di Uzzegna e il prete di San Giorgio. Alla fine trovano un accordo e si cambiano i prigionieri con gli ostaggi, meno il Tarento Neto. Il Tarento Neto, questo qui viene trattenuto invece in Alta Valsoana. Il 4 settembre in località Confiliacco. In località Confiliacco viene fucilato questo Tarento Neto da un plotone misto di partigiani e fascisti. Le versioni sono diverse, però nessuna è chiarificatrice.